Buonasera a tutti voi, ben ritrovati con l'informazione di Telemolise, ultimo appuntamento della giornata con il nostro telegiornale. In apertura abbiamo la cronaca giudiziaria con la sentenza che riguarda il processo Termoliget che è arrivata nel tardo pomeriggio. Il giudice Donofrio ha assolto con formula piena tutti gli imputati. Sentiamo Pasquale Di Bello. Assolve Iorio, Angelo, Michele, Chieffo, Antonio, De Matteis, Rosario, Di Sandro... Tutti assolti perché il fatto non sussiste e questo è il verdetto emesso dal giudice Roberta Donofrio a carico dei nove imputati coinvolti nel processo Termoliget. I politici Iorio, De Matteis, Chieffo, Picciano, Vitaliano, Di Sandro, gli imprenditori Paolo e Giuseppe Larivera e il funzionario regionale Domenico Pollice. Per tutti l'accusa formulata dal PM Fabio Papa era quella di truffa aggravata dall'uso di fondi pubblici. 8 milioni di euro provenienti dal programma di rilancio produttivo ex articolo 15. Ipotesi non condivisa dal giudice dopo un dibattimento svolto in tempi serrati per evitare la prescrizione in arrivo il prossimo 31 ottobre. Alla base della decisione, con molta probabilità, i documenti prodotti dalle difese nel corso del dibattimento è in primo luogo un patto parasociale tra Fimmolise, braccio della regione nell'operazione, e la LTM, la società della Rivera, costituita per i collegamenti con la Croazia. Soddisfazione per l'esito espressa dagli unici due politici presenti in aula, gli ex assessori Filoteo Di Sandro e Gianfranco Vitaliano. C'è molta soddisfazione, si è dato un'accelerata negli ultimi giorni su questa vicenda, siamo molto contenti perché abbiamo messo fine a una situazione che ci ha visto spesse volte anche sui mass media, già colpevoli di aver commesso il fatto. Invece siamo molto soddisfatti, siamo usciti puliti. Il commento è di soddisfazione, certo non risarcisce di anni di maldicenze, di violenze, di processi celebrati in piazza, insomma questo sistema deve riflettere. Io credo che la libertà delle persone va rispettata sempre, ci vuole più calma, più serenità, meno clima di arena, meno desiderio di sangue. Non si rende un buon servizio alla dignità delle persone e alla nazione quando le persone vengono messe alla berlina. Ampia la soddisfazione espressa anche dalle difese che hanno affrontato un dibattimento serratissimo, perplessità invece espresse dalle parti civili, nessuna dichiarazione invece dalla pubblica accusa. Ho sempre sostenuto nel corso di questo processo che il fatto di truffa non sussisteva. Oggi c'è stata una sentenza che ha reso giustizia prima di tutto a quelli che erano i prevenuti e comunque a quello che io avevo sempre affermato. È una sentenza giusta. La formula del fatto non sussiste significa che manca il nesso di causa l'idrata tra la condotta e l'evento. Quindi la condotta è stata ritenuta lineare, limbida, cristallina e l'evento è stato ritenuto insussistente. Delusione no perché comunque si stava parlando dell'ultimo reato di un impianto accusatorio che era costituito da tre contestazioni, un reato di falso, di abuso d'ufficio e di truffa. Va evidenziato che i reati di falso e di truffa sono stati dichiarati prescritti dal gruppo e quindi non più perseguibili. Insomma, con l'assoluzione in punto di diritto si chiude una vicenda finita sotto i riflettori della pubblica opinione per il coinvolgimento di politici potentissimi. Il verdetto anche su questo piano mette una pietra tombale definitiva. Di tutto quel che resta è una nave ferma in un porto, monumento ad una classe politica di un tempo che fu. Ora le immagini dell'incidente, del grave incidente che ha costato la vita ad un uomo di 44 anni, originario di Rocca Sicura, Guido Di Franco. Il suo mezzo pesante, il camion, si è ribaltato nella zona di Carovilli e ha perso la vita. Vediamo il servizio di Sergio Di Vincenzo. Guido Di Franco, 44 anni, di Rocca Sicura, era il titolare di una piccola impresa del settore Movimento Terra. La tragedia si è verificata in località Tizzoni, a metà strada fra Carovilli e la frazione Castiglione. L'imprenditore stava per consegnare un carico di sabbia. Probabilmente stava effettuando una manovra in retromarcia su una stradina sterrata. Quando la terra ha ceduto sotto il peso del camion, il mezzo è precipitato nella scarpata, ribaltandosi. L'uomo avrebbe anche cercato di mettersi in salvo, ma purtroppo il camion ha finito per travolgerlo. Inutile l'arrivo del personale del 118. Ormai per Guido Di Franco non c'era più nulla da fare. Il medico ha solo potuto constatarne il decesso. Sul posto anche alcune squadre, dei vigili del fuoco del comando provinciale di Sernia e i carabinieri della stazione di Carovilli e della compagnia di Agnone. Man mano sono arrivati anche alcuni familiari e gli amici del 44enne, visibilmente scossi per una morte che ha dell'incredibile. Quella stradina non aveva mai dato preoccupazioni o mostrato minimi segni di cedimento. In ogni caso, nessuno avrebbe mai immaginato un epilogo del genere, visto che la scarpata è alta all'incirca un metro e mezzo. Il magistrato di turno non ha ritenuto necessario fare eseguire l'autopsia. È stata solo effettuata un'ispezione cadaverica al cimitero di Carovilli. Poi la salma è stata riconsegnata ai familiari per lo svolgimento dei funerali. Guido Di Franco lascia la moglie e un bimbo di due anni. E ora cambiamo argomento. Andiamo in Consiglio regionale che è tornato oggi a riunirsi. Ma all'interno dell'assemblea di Palazzo Moffa sono arrivate anche le Iene. Vediamo il servizio di Giovanni Minicozzi. Dopo circa un mese di sospensione è tornato in riunione il Consiglio regionale che ha discusso e approvato diversi argomenti, alcuni importanti, altri meno. Tra questi spicca l'ordine del giorno sulla Fondazione Giovanni Paolo II che impegna il Presidente della Regione a tutelare i livelli occupazionali nella ex cattolica e a perseguire ogni iniziativa idonea ad integrare nel sistema sanitario regionale la struttura della Fondazione. Nel dibattito è intervenuto, tra gli altri, il Consigliere Giuseppe Sabusco che ha chiesto di salvaguardare i 45 infermieri della Fondazione ma anche la Sanità pubblica mulisana. L'assessore Petraroia e il Presidente Frattura hanno sottolineato poi la necessità di riorganizzare il sistema sanitario puntando sulla sanità pubblica senza penalizzare però le strutture private accreditate. A seguire è stato approvato un ordine del giorno proposto dal Consigliere Salvatore Ciocca che invita il Governo e il Parlamento ad approvare subito una legge che introduca il crimine della tortura nel nostro codice penale riproducendo la stessa definizione presente nel Trattato dell'ONU. L'Aula ha poi approvato a maggioranza con l'astenzione del centro-destra la legge che disciplina le tasse sulle concessioni regionali il cui importo però è stato ridotto e omologato a quello nazionale eliminando quindi gli aumenti che erano stati decisi dalla Giunta regionale. Il Consiglio ha poi approvato anche la legge sulla dispersione delle ceneri funerarie nella regione molise ma a tenere banco a Palazzo Moffa è stata l'incursione della Iena Paolo Calabresi che ha messo sotto torchio quasi tutti i consiglieri regionali che hanno percepito l'indennità per i portaborse in aggiunta ai nuovi stipendi riferita al mese di agosto. Tra gli altri è stato intervistato anche il Governatore Paolo Frattura che ha assunto un preciso impegno ovvero quello di portare in aula al prossimo Consiglio regionale la proposta di legge per regolamentare il famigerato articolo 7 forse le Iene riusciranno a far rispettare la legge sui costi della politica ma intanto sta per essere erogata anche l'indennità relativa al mese di settembre. Comunque i lavori dell'aula sono stati conclusi dalle dichiarazioni di Nunzia Lattanzio che ha ribadito le sue accuse nei confronti di Vincenzo Niro e ha chiesto all'intero Consiglio di aprire una riflessione su quanto sta accadendo nel gruppo dei popolari Udeuro. Il caso che riguarda le indennità dei costi della politica finisce anche al centro dei lavori del Consiglio Comunale a Campobasso dove è stato presentato un apposito ordine del giorno. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Il Consiglio Comunale di Campobasso prende posizione sulle indennità dei consiglieri regionali. Una posizione netta contenuta nell'ordine del giorno bipartisan approdato nell'aula di Palazzo San Giorgio con il quale l'intero Consiglio Comunale sollecita la regione a ridurre i costi della politica. Un tema sul quale maggioranze ed opposizione hanno trovato piena convergenza. Tutti concordi dunque nel sostenere che le indennità percepite dagli inquini di Palazzo Moffa vanno necessariamente ridotte per tante ragioni a cominciare da una di carattere etico oltre che di natura economica. Maurizio Tiberio del PDL tra i firmatari del documento. È un ordine del giorno che fa capire tutto dai firmatari Adriana Izzimo, Maurizio Tiberio, Augusto Massa. Insomma non c'è un colore politico ma c'è una presa di posizione rispetto a un'assemblea regionale che non riesce a recepire ciò che oggi sta accadendo sia a livello economico nazionale, internazionale sia a livello sociale e sia anche da quello che è l'allontanamento della gente dalla politica. Che cosa pensa delle manifestazioni che si stanno organizzando e che si sono organizzate proprio contro i costi della casta? Ma quelle non sono manifestazioni contro quelle sono un messaggio è un modo diverso di comunicare un nuovo modo di comunicare a chi oggi siede nelle istituzioni che non si può andare avanti così. Adriana Izzi è la promotrice dell'ordine del giorno. L'ordine del giorno l'ho scritto il primo di agosto purtroppo, dico con disappunto, il tema è ancora di grandissima attualità ed è un tema che ci impegna come cittadini nelle strade, nelle piazze in una raccolta firme dimostrativa, anche propositiva di una legge di iniziativa popolare. Abbiamo ritenuto, io ed altri consiglieri che con me hanno firmato che come Consiglio Comunale istituzionalmente dovessimo far sentire la nostra voce e dovessimo rivolgere un invito ben determinato per quanto garbato nella formulazione linguistica al Consiglio regionale richiamando i suoi membri a valutare quanto sia eticamente intollerabile oggi fare solo dei maquillage diciamo fasulli, perdonatemi il termine e mantenere non solo il livello altissimo inaccettabile delle prebende ma addirittura lievitarle, farle lievitare di qualche poco. Veniamo alla vertenza ITR e in particolare al botta e risposta tra il patron dell'azienda Antonio Bianchi e il manager Alberto Manganiello ce ne parla Enzo Di Gaetano Il 31 ottobre si avvicina entro quella data Antonio Bianchi dovrà versare più di 4 milioni alla gestione commissariale come seconda rata della somma patuita per l'acquisto dell'ITR intanto è stato aperto un concordato con i creditori una fase delicatissima che richiederebbe la massima serenità aziendale eppure le cose non vanno così in ITR Antonio Bianchi dopo averlo appena nominato ha sfiduciato platealmente Alberto Manganiello l'amministratore delegato nominato appena qualche giorno fa nello stesso tempo ha convocato sindacati ed RSU per ufficializzare la scelta di un nuovo vertice operativo per l'ITR si parla di Giovanni Petrollini già revisore dei conti dell'azienda o di Enzo Pontarelli presidente uscente della gamma di Boiano uno di loro due dovrebbe essere a meno di sorprese il nuovo AD dell'ITR ma quello nominato e silurato Alberto Manganiello non ci sta e dopo aver convocato una conferenza stampa lampo dice la sua l'amministratore delegato sono io e resto io denuncerò il mobbing nei miei confronti ma perché Manganiello si dice così sicuro del fatto suo? Io ho copia di delibera che è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione il giorno 14 di ottobre con attribuzione di nomina e di deleghe E l'ipotesi di mobbing nei suoi confronti da cosa nasce? Guardi ho avuto notizia stamane di un documento che è stato fatto circolare fra alcuni dipendenti ai quali è stata chiesta la sottoscrizione mi è stato detto che in questo documento si rappresentava l'obbligo per i dipendenti di fornire documentazione aziendale solo ed esclusivamente a Bianchi poiché questo lede la mia funzione di amministratore delegato e poiché sono stati coinvolti anche i dipendenti se così dovesse essere se io avessi certezza fisica quindi documentale di quello che è accaduto è chiaro che per me si configura un comportamento scorretto e lesivo della mia professionalità per cui adirò le vie legali Ma perché si è rotto il rapporto con Antonio Bianchi? Non lo so perché Bianchi non mi ha mai formalmente né tantomeno informalmente opposto qualcosa rispetto alle cose che io stavo portando avanti anzi ha dato sempre la sensazione di condividere le mie impostazioni fine settimana scorsa Bianchi mi ha rappresentato l'ipotesi di un ingresso di un gruppo senza meglio specificarmi di che cosa stesse parlando e mi ha chiesto di fare un passo indietro come amministratore delegato addirittura mi aveva chiesto anche di mettermi da consigliere d'amministrazione Intanto si parla anche di operazioni in fra gruppo e svuotamento dei magazzini tant'è che l'assessore Scarabeo ha anche parlato di una segnalazione alla procura di Sernia è chiaro che se ce ne fossero state o se ne dovessero evidenziare questo comporterebbe un depauperamento del magazzino in termini numerici in termini economici che è stato sottoposto all'attenzione del giudice e questo insomma il giudice potrebbe valutarlo anche negativamente mi spiego meglio vendere in continuità aziendale è normale vendere a stock è altrettanto normale se si rispettano i valori che sono stati assunti come valori per dare un significato al magazzino se le vendite invece intervengono a valori più bassi questo è chiaro che crea qualche problema e il giudice potrebbe diciamo guardarlo con un occhio non positivo intanto è arrivata anche la controreplica proprio del padrone dell'azienda Antonio Bianchi allora sentiamo ancora Enzo Di Gaetano e la risposta di Antonio Bianchi a Manganiello non si è fatta attendere non è vero che Manganiello sia l'amministratore delegato dice Bianchi quella carica era mia ed è restata mia perché il consiglio d'amministrazione che doveva deliberare sull'incarico a Manganiello non si è concluso con la verbalizzazione degli atti in sostanza per Bianchi in Manganiello dice il falso e verrà sostituito con una persona che sarà proposta lunedì prossimo al consiglio d'amministrazione dell'ITR per la regolare approvazione si fa il nome di Giovanni Petrollini attuale componente del collegio sindacale dell'azienda i motivi del ripensamento di Bianchi sarebbero da collegare alla mancanza di competenze specifiche nel settore della moda di Alberto Manganiello ma resta un interrogativo sul perché di una scelta fatta e poi rinnegata dopo pochissimi giorni il 4 novembre si riunirà questa è una delle cose che volevo dirvi il consiglio di amministrazione dell'ITR per nominare l'amministratore delegato oggi l'amministratore delegato di ITR sono io nel consiglio di amministrazione del 14 si bloccò tutto perché quando si dovette impostare il verbale un consigliere Lucio Di Gaetano in conference call disse dobbiamo mettere dei paletti perché nel caso in cui la regione subentrasse il 51% la regione si deve sentire in libertà di scegliere un proprio amministratore quindi questo amministratore che Le Bianchi vuole proporre è un amministratore a tempo questo verbale quindi non si fece perché il dottor Lucio chiese l'intervento dell'avvocato Ramundo che non era presente naturalmente non è un membro del consiglio di amministrazione e quindi si sospese tutto quindi non c'è stato il consiglio c'è stato un inizio di consiglio tra l'altro non partecipò neanche il dottor Manganiello perché a quel punto fu io a dire è inutile continuare il consiglio quando c'è un blocco da parte di un consigliere che chiede precisazioni giustamente Manganiello è un consigliere è un consigliere quindi non ha deleghe per poter fare chiaramente certe operazioni l'unico che può fare operazioni di ordinaria e straordinaria diciamo gestione sono io perché sono l'unico amministratore delegato dell'azienda giornata di show per oggi degli autisti ATM proclamato dai sindacati di categoria una delegazione dei dipendenti dell'azienda ha organizzato un presidio davanti alla sede dell'assessorato regionale ai trasporti in via Elena per richiamare l'attenzione della regione ma anche dell'opinione pubblica sulla vertenza ancora aperta restiamo in tema perché sulla protesta sollevata dai sindaci di alcuni comuni in particolare Roccamandolfi Macchiagodena Cantalupo Santa Maria Boiano San Polo e Campochiaro riguardo la soppressione di quattro corse di autobus ATM è intervenuto l'assessore regionale ai trasporti Pierpaolo Nanni siamo disponibili al dialogo e al confronto con tutti ha detto Nanni ma ha poi precisato che le corse delle quali si parla sono al di fuori dei servizi minimi e pertanto i primi ad esserne responsabili sono i sindaci che non le hanno inserite nel piano va anche ricordato poi ha aggiunto Nanni che tali tratte sono state soppresse per decisione dell'ATM e non della regione Molise continuiamo a parlare di aziende il futuro della Vibac di Termoli si sposta a Campobasso e allora sentiamo Manuela Iorio vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti su questa importante azienda di Termoli per la quale è stata annunciata la chiusura dello stabilimento in tre mesi hanno perso una commessa da 800 mila euro e poi c'è la concorrenza della Turchia dove producono lo stesso nastro adesivo che fanno a Termoli ma con costi dimezzati la crisi della Vibac insomma che pochi giorni fa ha comunicato la chiusura dello stabilimento e il licenziamento di 153 operai arriva da lontano in cima alla lista c'è la perdita di competitività nel primo accesissimo incontro tra aziende e sindacati si sono analizzati bilanci e fatture e il risultato è stato che per la proprietà che ha mandato a contrattare il responsabile del personale del gruppo Fabrizio Tiberio e il capo del personale di Termoli Guido Rossi lo stabilimento resta chiuso l'attività non verrà ripresa a meno che ci sia la possibilità di avere un aiuto economico per rilanciare la fabbrica per farla tornare competitiva in un percorso di riorganizzazione che potrebbe durare anche due anni questo è l'unico spiraglio che si è aperto di solito alla prima riunione non si sortisce un risultato eccezionale l'azienda la scorsa settimana ci ha annunciato in maniera sorprendente la chiusura dello stabilimento noi oggi abbiamo riesaminato tutte le motivazioni che hanno causato questo stato di cose e purtroppo l'azienda ancora non recede da questo suo proposito ma abbiamo individuato un percorso vista il grande interesse che ha sollecitato diciamo che ha sollevato in tutta l'opinione pubblica i vi comprese le istituzioni la notizia della chiusura della Vibac e a questo proposito congiuntamente con l'azienda abbiamo deciso di chiedere un incontro urgentissimo che si farà probabilmente subito dopo le festività di ogni santi all'assessorato alle attività produttive e all'assessorato al lavoro per vedere come questa regione vuole sostenere nel proprio territorio le industrie il tessuto produttivo e tutti gli altri capitoli che possono far sviluppare questa regione insomma la regione dovrebbe sostenere la Vibac nel percorso di rilancio che significa acquisto di nuovi macchinari e corsi di formazione per i dipendenti questa sarebbe l'unica possibilità per riaprire la fabbrica la rinuncia degli operai alla quattordicesima ai premi aggiuntivi non è stata considerata sufficiente ora la patata bollente passa alla regione che ha già risposto all'appello è stato fissato infatti per il 6 novembre alle 9 nella sede dell'assessorato al lavoro l'incontro con sindacati e azienda riguardo al servizio sui rifiuti sospetti interrati in un campo a Venafro l'associazione pianeta terra precisa che il terreno interessato dall'inchiesta è molto distante dunque non ha alcuna attinenza con l'oasi naturalistica delle mortine con questo campo spiega il presidente Mario Caniglia l'area delle mortine condivide solo l'ingresso dalla strada provinciale ma è totalmente separata dal luogo inquinato anche grazie all'interposizione della variante di Venafro l'oasi naturalistica che da anni tuteliamo ha poi concluso il presidente è un riferimento per molte famiglie che usufruiscono frequentemente dell'area didattica e ricreative immergendosi nella natura incontaminata ora andiamo a Isernia per la visita dell'ex ministro Berlinguer a margine di un incontro con gli studenti del liceo scientifico vediamo il servizio di Sergio Di Vincenzo al liceo scientifico Majorana di Isernia per parlare del ruolo della cultura scientifica e tecnologica nel mondo della scuola l'ex ministro dell'istruzione Luigi Berlinguer non si è sottratto alle domande sull'attuale situazione politica sulle primarie del partito democratico e sui possibili vincitori ha preferito non sbilanciarsi ma indirettamente ha fatto un assist al presidente del consiglio Enrico Letta se abbiamo la pazienza di aspettare il giorno dell'immicalata concezione avremo la grazia cui il segretario sarà uno e gli altri saranno i collaboratori del segretario e quindi questa passione straordinaria se vincere uno o l'altro cessa di togliervi un argomento Letta è il presidente del consiglio dei ministri non solo del PD di una larga maggioranza provate a togliere Letta in questo momento e a provocare la crisi senza cambiare la legge elettorale e fare le riforme e l'Italia ha davanti ai piedi un barato profondo e precipita non possiamo permettercelo sta salvando il paese naturalmente vanno corrette tante cose di ciò che fa Durante il confronto con gli studenti Berlinguer ha sottolineato la necessità non solo di evitare ulteriori tagli ma anche di svecchiare la scuola italiana così come concepita a suo avviso non porterà i ragazzi da nessuna parte Letta non taglia la scuola non è una cosa da poco vero? Le risorse sono comunque poche perché si è tagliato troppo prima non basta avere i soldi che ci vogliono bisogna anche rinnovare profondamente la scuola perché quella che noi abbiamo adesso è diventata vecchia e i paesi che danno più soldi alla scuola insieme l'hanno cambiata talmente in modo talmente profondo che non si riconosce più quella di noi oggi quella da noi oggi è una scuola che non è più all'altezza dei tempi bisogna che al centro oggi non ci sia più la lezione ma che deve entrare solo episodica ma l'apprendimento il modo di imparare in modo che il ragazzo costruisca da sé il suo potere il suo sapere con la guida giusta e importante dei docenti il laboratorio per questo è essenziale perché il laboratorio è un modo di sperimentare ciò che si apprende la scienza serve serve a scoprire ad innovare se non l'economia non parte torniamo sulla cronaca e parliamo di una truffa architettata da un finto avvocato ai danni di due imprenditori agricoli l'episodio si è verificato a Santa Croce di Magliano ce ne parla Tonino Danese quando si è in difficoltà economiche spesso non si pensa le conseguenze delle proprie azioni per cercare di uscire fuori da un tunnel dal quale non si vede la luce e spesso la disperazione fa crollare completamente le difese alle persone portandole dritte tra le braccia di truffatori è accaduta una coppia di imprenditori agricoli di Santa Croce di Magliano marito e moglie la crisi i debiti i problemi nella loro azienda i conti che non tornano la paura di perdere quello che avevano costruito in una vita di sacrifici una donna di 46 anni ha approfittato delle difficoltà dei due portandoli dritti nella sua trappola si è presentata come avvocato con toni rassicuranti e forte del falso ruolo di legale ha consigliato ai coniugi di spogliarsi di ogni bene tracciabile così da non essere soggetti a pignoramenti o altre procedure previste dalla legge nei casi di insolvenza la sedicente avvocatessa ha poi calato l'asso pretendendo l'intestazione ufficiale di diversi beni immobili e attrezzature agricole una volta raggiunto lo scopo ha preso le distanze dalla coppia ormai raggirata marito e moglie disperati si sono rivolti alle forze dell'ordine sono partite le indagini dei finanzieri di Larino delegati dalla procura fraintana indagini serrate che hanno portato a ricostruire i fatti a denunciare la donna finto avvocato con l'accusa di truffa minacce falso in atto pubblico stesso reato quest'ultimo contestato però come atto dovuto nell'ambito degli accertamenti anche a una delle due vittime la finanza ha sequestrato immobili e attrezzature per un valore di circa 300 mila euro il mancato recupero dei crediti è uno dei problemi più difficili da superare per le imprese soprattutto quelle più piccole se ne è parlato a Isernia nel corso di un'iniziativa organizzata dalla Camera di Commercio La ragioneria dello Stato attraverso una particolare procedura tecnica potrebbe fare da garante per sbloccare i crediti maturati dalle imprese nei confronti delle amministrazioni pubbliche la novità è stata studiata dalla Camera di Commercio di Isernia che sta predisponendo un percorso di affiancamento per gli imprenditori in difficoltà Abbiamo verificato che questa procedura che è stata attivata dalla ragioneria generale dello Stato è poco utilizzata è poco utilizzata soprattutto dalle piccole imprese che hanno crediti con la pubblica amministrazione e questo chiaramente penalizza le piccole imprese perché non riescono ad essere pagate nei tempi giusti Una procedura complessa che richiede una particolare attenzione ma che potrebbe sbloccare i crediti insoluti per questo Pasqualino Piersimoni ha voluto una sorta di corso di formazione per gli imprenditori in difficoltà Si tratta di una piattaforma che ha appunto in gestione la ragioneria dello Stato che permette all'impresa dopo 30 giorni dalla scadenza del credito di attivare questa procedura quindi passa la palla in mano alla ragioneria dello Stato che attiva in un certo periodo in 60 giorni attiva una procedura che fa sì di nominare un commissario ad acta che possa poi procedere per il pagamento e il riconoscimento del credito della pubblica amministrazione Cosa fa la Camera di Commercio per questi imprenditori? Noi vogliamo fare per i consulenti per i professionisti e per le imprese creare una giornata di formazione dove andiamo a trasferire tutto quello che è la best practice per attivare questa procedura affinché le imprese possano avere il riconoscimento del credito ed è molto importante perché il riconoscimento del credito permette di attivare per le imprese la compensazione del credito con i debiti verso la pubblica amministrazione oppure farsi anticipare dalle banche il credito che loro vantano è deceduto nella serata di ieri Cosmo Teberino personaggio molto noto a Campobasso per aver interpretato per anni il ruolo di Sant'Isidoro sul mistero che apre la sfilata degli ingegni nel giorno del Corpus Domini Teberino ha continuato a occuparsi dei misteri insieme ai figli diventando uno dei motori dell'intera macchina organizzativa i funerali si sono svolti nel pomeriggio nella chiesa di San Giuseppe Artigiano si terrà domani la terza giornata dello screening gratuito dell'osteoporosi le visite sono in programma dalle 9 alle 13 con il dottor La Penna nel poliambulatorio Asrem di via Petrella a Campobasso ora invece ci occupiamo siamo a Campobasso ma ci occupiamo di cultura in particolare della biblioteca Albino che ha messo su una serie di progetti interessanti dal punto di vista delle tecnologie digitali sentiamo Tonino Danese L'esperienza della divulgazione della lettura digitale nella biblioteca Albino di Campobasso spiegata in un dettagliato articolo di Carmine Aceto sulla prestigiosa rivista online Digitalia che esce anche in cartaceo del Ministero rivista che si occupa di quello che succede sul fronte digitale nei beni culturali in Italia e all'attenzione dei lettori c'è quanto sta facendo da anni la struttura del capoluogo diretta da Vincenzo Lombardi sono stati organizzati incontri con esperti in lettura digitale ed è stato creato un punto informativo permanente con gli utenti ma non solo queste nostre esperienze da più di un anno in qua come quelle per esempio di un periodico che si chiama Bibliotech che noi pubblichiamo ogni mese di informazioni su questi aspetti oppure banalmente la nostra newsletter o il nostro profilo Facebook o Twitter o il nostro canale YouTube tutto questo complesso di strumenti che sono forme di proposte di lettura le abbiamo raccontate hanno riscosso appunto l'interesse di questa rivista che osserva quello che succede anche nel mondo delle biblioteche su questi aspetti la biblioteca Albino si occupa da più di un decennio dalla fine degli anni 90 di digitale e ha avuto apprezzamenti importanti anche fuori dall'Italia abbiamo messo a disposizione i fondi storici in forma digitalizzata tutto il fondo dei periodici periodici molisani un fondo di manoscritti musicali le stampe e i disegni di Paolo Saverio Di Zinno che noi conserviamo in originale e che sono diventati anche un e-pub che è stato messo a disposizione ed è scaricabile su telefonino questa è un'altra forma di abbiamo messo a punto una teca digitale un nostro sistema che si chiama Simbad ecco è questo che è stato censito dal registro che la Berk University tiene è stato censito come una buona pratica come qualcosa a cui potersi rifare compito della biblioteca Albino ha detto ancora Lombardi è anche quello di fornire le conoscenze per approcciarsi alla lettura digitale Noi siamo un'agenzia culturale e riteniamo che sia nostro compito dare l'opportunità a tutti presentare e proporre delle modalità di fruizione consapevole di utilizzo consapevole di questi strumenti Bene tutto anche per questa edizione dell'informazione di Telemolise grazie per averci seguito il nostro telegiornale torna domani mattina alle 7 in punto insieme alla rassegna stampa per il momento è tutto auguro a tutti voi buonanotte